Serie A, 35esima giornata, Napoli-Genoa 2011, streaming live, applicazione mobile. Il secondo anticipo del sabato di questa 35esima giornata di Serie A è Napoli-Genoa, in programma alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo. L'anno scorso la partita finì 0-0. Questa stagione 2011 offre un Napoli-Genoa votato alla rincorsa del secondo posto in classifica da parte dei partenopei. Fino a poche giornate fa, agganciati al sogno Scudetto, è oggi invece costretti a riagguantare quel secondo posto che proprio nell'ultimo turno di campionato è stato riconquistato dalla rimontante Inter. Il Napoli si trova infatti al terzo posto con 65 punti, a più 6 dalla quinta postazione occupata dall'Udinese. Nulla da chiedere invece da parte del Genoa, reduce da due vittorie di fila contro Brescia e Lecce. La squadra di Ballardini è ferma a quota 45 punti in classifica. Per quanto riguarda le probabili formazioni del match, i grifoni sono stati decimati dagli stop imposti dal giudice sportivo. Squalificati sono infatti da Enelli, Milanetto e Palacio. Nessuna sorpresa apri il Napoli, che invece potrà schierare la formazione tipo. Napoli-Genoa 2011 sarà visibile in streaming grazie all'applicazione mobile.gazzetta.it dedicata alla visione di partite in diretta live su internet con cronaca audio, replay e video dei gol. L'applicazione è gratuita, è stata pubblicata alla Gazzetta dello Sport ed offre tutte le partite di serie A in streaming sui telefonini smartphone e sui tablet della Apple. Un motivo in più per seguire le partite anche quando non si resta a casa davanti alla TV. Un motivo in più per seguire le partite anche quando non si resta a casa davanti alla TV. Grazie a tutti.